più emozionante. Per il Capricorno una bellissima giornata, una luna semplicemente splendida quella che transita nel segno della Vergine, una luna ideale per chi deve fare dei viaggi di lavoro, è una luna per chi è in attesa di notizie che arrivano da lontano ed è una luna ideale anche per chi ha deciso di concedersi ancora, perché no, un appendice di vacanza in maniera molto spensierata. Andiamo al segno dell'acquario, per voi amici dell'acquario